era l'arcobaleno questo l'arcobaleno intende quando vedete quei dischi volanti la vedete che attorno questi dischi volanti vedete sempre una sorta di luce poi alla fine di questo video metterò un po di video di di coloro che hanno visto questi dischi volanti perché si stanno facendo vedere ultimamente tantissimi paesi da tutto il mondo che anche il segno che dice verso la fine che vedremo quindi questo l'arcobaleno che intende sono le luci che si illuminano attorno questi dischi volanti poi vedrete la sua faccia era come il sole hanno questa sorta di fuoco ok e i suoi piedi come colonne di fuoco avete visto la stessa cosa che abbiamo parlato prima andiamo se vi ricordate bene il profeta elia che sappiamo tutti che era un profeta che non ha assaggiato la morte è stato portato su dal padre senza senza morire andiamo a vedere come è andato su ok che le chiese non insegnano mai queste verità qua queste verità qua perché non hanno la verità la chiesa non ha la verità la chiesa come dice le scritture siamo noi e ricordiamoci il versetto che dice che il padre non dimora nelle case costruite le mani dei uomini e con i sassi ricordi vive in un corpo nel nostro corpo noi siamo il tempio del padre ricordiamoci andiamo a leggere dal secondo re capitolo diciamo prima da capitolo 2 11 poi dopo andiamo a leggere la sua trasformata quando è andato via perdonate il mio italiano sto tentando di non sbagliare ma sbaglierò tanto perché non sono con solo di nazionalità italiana leggiamo da capitolo 2 versetto 11 qui ok e come essi continuavano a camminare discorrendo assieme ecco un carro di fuoco e dei cavalli di fuoco e li separano l'uno dall'altro e da lì elia salì al cielo in un turbine vediamoci quindi qua all'ennesima volta la prova questi ufo che vediamo sono i cari del padre andiamo a leggere sempre da secondo re capitolo 6 e versetto 17 che è qui ed eliseo pregò e disse o eterno ti prego apri gli occhi affinché vega e l'eterno ha aperto gli occhi del servo che vide a un tratto il monte pieno di cavalli e di cari di fuoco intorno ad eliseo qui erano circondati dai siri ok che li volevano conquistare la città e questo servo dice caspita siamo noi due guardali ci hanno circondato eliseo gli dice guarda coloro che sono con noi sono di più perché lui era un profeta il padre l'aveva aperto gli occhi poteva vedere ecco questi dischi volante noterete che spesso non riusciamo a vederli mimicano diventano nuvole appaiano come vogliono prendono in giro i nostri occhi se uno non ha lo spirito del padre non li vedrà e il padre l'eterno ha aperto gli occhi a questo servo e cosa vede vede dei cavalli e cavalli di fuoco a questi cavalli ricordatevi ho detto c'è il cavallo rappresenta un carro di trasporto ok e rappresenta anche potenza potere ok erano delle bestie quando li ha visto ok il cavallo sappiamo che non non esiste un cavallo di fuoco sappiamo questo e non esistono cari di fuoco ok esistono infatti questi oggetti che noi chiamiamo gli oggetti non identificati gli ufo ok che sono dei cari del padre ok ok bene vi do altre poche prove perché le scritture sono piene di prove leggiamo dal libro di salmi libro di salmi prima leggo da capitolo 68 poi andiamo a vedere 104 68 leggiamo dal versetto 17 che dice i cari di dio Yahweh si contano a miriadi e miriadi a migliaia di migliaia il signore viene dal sinai del santuario ok dice i cari sono miriadi miriadi e miriadi sono tantissimi infatti nell'ultimo giorno saranno questi cari che verranno a salvare coloro che hanno osservato i comandamenti al loro meglio i figli di israele sono questi cari che verranno a salvarli e questi cari non verranno solo a salvare verranno anche a distruggere butteranno giù del fuoco concentrato che è la lesa come conosciamo noi oggi ci sono versetti che parlano di questa questo fatto qua andiamo a leggere sempre dal libro di salmi questa volta andiamo a 104 104 leggiamo da versetto 3 è lì e ricostruisce le sue alte stanze nelle acque fa delle nuvole il suo caro avete visto fa delle nuvole il suo caro s'avanza sugli ali del vento avete visto questo è il padre il padre è grandissimo e il padre è grande e il padre è grande e il padre era un profeta anche davide qua dice e lì costruisce le sue alte stanze nelle acque fa delle nuvole il suo caro s'avanza sugli ali del vento perciò il padre grande è oltre la nostra immaginazione è oltre qualsiasi cosa che possiamo immaginare e sarà una cosa spaventosa quell'ultimo giorno quando tutti vedranno queste cose qua infatti queste cose sono successe già nel passato andiamo a vedere il libro di Esodo capitolo 13 l'aveva già fatto e tutti conoscono comunque gli israeliti che hanno una sorta di caro andiamo a leggere qui il versetto 21 l'eteno andava davanti a loro questi sono i figli di Israele quando sono usciti dall'Egitto la schiavitù l'eteno andava davanti a loro di giorno in una colonna di nuvola per guidarli per il loro cammino e di notte in una colonna di fuoco per illuminarli onde potessero camminare giorno e notte qui questa colonna di fuoco e la colonna di nuvola sono dei cari sono coloro cose che oggi chiameremo gli UFO coloro che governano la terra sanno questi fatti qua infatti la chiesa insegna mitologia greca non insegna le scritture andiamo sempre a vedere il libro di Esodo capitolo 14 e versetto 19 spero sia quello allora l'angelo di Dio Yehawah sono gli UFO per l'ennesima volta vi faccio vedere un'altra prova andiamo a vedere sempre dal libro di Esodo capitolo 33 versetto 9 ok e come Mosè era entrato nella tenda la colonna di nuvola scendeva si fermava all'ingresso della tenda e l'eterno parlava con Mosè avete visto di nuovo il padre si muove con queste nuvole questi cari di nuvole ha fatto i cari ha fatto la nuvole ai suoi cari sono gli UFO che noi vediamo al giorno d'oggi sono potentissimi enormi il padre a me ha dato anche la visione che ho avuto un sogno e ho visto un pezzetto come sarà la fine ho visto questi cari coprire il cielo cavoli è spaventoso è spaventoso figli di Giacobbe svegliatevi che quel giorno vorrete solamente essere salvati da questi cari qua che coloro che non conoscono questa verità solo alla vista svengono sverano solo alla vista di questi cari qua vi do altri un altro paio di prove e chiudiamo leggo dal libro di Deuteronomio capitolo 31 versetto 15 l'eterno apparve nella tenda in una colonna di nuvola e la colonna di nuvola si fermò all'ingresso della tenda avete visto sempre questa colonna di nuvola ragazzi non è quello che pensate infatti secondo voi perché hanno fatto la NASA gli eserciti spaziali perché loro sanno la verità la nascondono da voi ok ok e per chiudere vi leggo velocemente Isaia 31 Isaia 31 e versetto 5 come gli uccelli spiegano le ali sulla loro nidittia nidiata così l'eterno degli eserciti proteggerà Gerusalemme Gerusalemme la proteggerà la libererà la risparmierà la farà scampare è questo che vi ho detto prima ok l'eterno degli eserciti vedete come come gli uccelli spiegano gli uccelli sulla loro nidiata così così l'eterno degli eserciti proteggerà proteggerà Gerusalemme la proteggerà la libererà la risparmierà la farà scampare infatti è questo che vi ho detto prima questi cari verranno quel giorno là i figli di Israele verranno teletrasportati subito e questi cari inizieranno a buttare giù fuoco concentrato che noi giorno d'oggi chiamiamo laser e distruggeranno i malvagi figli di Israele svegliatevi venite fuori da queste filosofie greche che vi insegnano nelle chiese voi non dovete fare parte di nessuna religione voi dovete tornare al Dio dei vostri padri che è Yahawa il nome di suo figlio è Yahawa Shai detto questo vi saluto e prego che il padre Yahawa nel nome di suo figlio Yahawa Shai vi dà la capienza se siete parte degli eletti e con te questo dico Shalawa alla prossima